Il primo tassello si chiama Raccolta della Vetro, presentata a Tarato a Palazzo di Città. Prologo dell'espansione in tutto il capoluogo del nuovo sistema di differenziata porta a porta, che dovrebbe consentire di cancellare il terzo-ultimo posto a livello nazionale della raccolta, sancito dal rapporto ecosistema urbano di Legambiente. Si parte con un cofinanziamento a fondo perduto attraverso un bando, Associazione Nazionale Comuni, Consorzio Recupero Vetro. Dalla 1 novembre inizia la raccolta differenziata monomateriale del vetro, porta a porta nei quartieri Trecara Resolito e Montegrana Rosalinella. Il ritiro sarà effettuato il mercoledì nelle abitazioni private e lunedì, mercoledì e sabato per le utenze non domestiche. Chimambiente consegnerà a tutti gli utenti i contenitori per il conferimento del vetro. Dalla 1 dicembre la differenziata porta a porta completa sarà estesa a Montegrana Rosalinella, da febbraio a Trecara Resolito. Perché partiamo dal vetro? Perché il vetro è una delle materie prime più reciclabili, infatti di solito si suole dire che il vetro è immortale. e abbiamo bisogno di tanti piccoli progetti per arrivare a coprire a 360 gradi la raccolta differenziata. Un cambiamento importantissimo per cercare di recuperare, in particolare in riferimento agli imballaggi in vetro, tutte quelle frazioni che non vengono conferite correttamente. Intanto in molte zone della città i cassonetti sono pieni per un guasso tecnico all'impianto di conferimento dei rifiuti. C'è un problema al trituratore? Sì, assolutamente, questo problema speriamo possa essere definito quanto prima. In queste ore, insomma, noi abbiamo avuto la comunicazione da Ager che ci impone quindi di trasferire una quota parte dei rifiuti a Conversano. Nelle prossime ore speriamo di risolvere i problemi, ci scusiamo per il disagio perché logicamente la presenza di diversi mezzi che non vengono svuotati incide anche sulla velocità di svuotamento dei cassonetti.